a prezzo del virus torniamo a parlare della nostra economia dell'economia reale lo facciamo con Antonio Agostini che è direttore dell'agenzia del demanio che ringrazio ben arrivato buonasera direttore buonasera a tutti e grazie per l'opportunità allora innanzitutto parliamo del demanio e avete lavorato anche in condizioni difficili con il covid il telelavoro insomma è stata una rivoluzione un po per tutti ma il demanio e quindi la valorizzazione anche del patrimonio immobiliare pubblico dei beni demaniali è sicuramente una uno degli asset principali del paese come state lavorando oggi qual è il percorso su cui siete in questa fase certamente grazie e in effetti le parole d'ordine per noi sono state modernizzazione e trasformazione digitale modernizzazione perché diciamo pensiamo che in questa diciamo gravissima crisi economica connessa diciamo all'emergenza epidemiologica dal coronavirus avremmo dovuto lavorare molto sull'interno soprattutto di proposta di soluzioni operative e anche normative per sostenere il governo nazionale il ministero dell'economia e finanze a cui siamo strettamente diciamo collegati che si sono impegnati in questo incredibile sforzo di negoziato con la commissione europea e insieme alla commissione europea hanno raggiunto diciamo dei risultati davvero importanti mi pare di capire con una disponibilità di risorse disponibili per la crescita che non ha precedenti diciamo nella nostra storia quindi in questo senso di fronte a una crisi importante e che coinvolge soprattutto il settore diciamo dell'industria edilizia e ci è sembrato opportuno insomma in qualche maniera mettere a disposizione alcune proposte finalizzate a far sì che anche il patrimonio pubblico diciamo il demanio dei beni dello stato potesse essere messo a disposizione diciamo a beneficio della ripresa economica ma soprattutto a beneficio dell'economia reale proprio per la particolare caratteristica diciamo che hanno i beni pubblici oltre diciamo ad essere articolati in una serie di classi molto importanti sono capillarmente diciamo distribuiti su tutto il territorio nazionale e quindi diciamo un intervento su di loro è in grado di generare degli effetti diciamo di economici importanti diciamo e distribuiti sul territorio nazionale. Se fa qualche esempio di queste proposte direttore Agostini? Certamente diciamo noi proprio perché alla luce di questi risultati diciamo conseguiti dal governo nella sedi negoziali europee diciamo dobbiamo pensare che queste risorse che saranno rese disponibili devono essere impiegate diciamo sulla base di ci obbligano diciamo ad una proposizione ed una programmazione seria realistica e soprattutto responsabile cioè non si può girare diciamo su fabbisogni così generici ma bisogna partire da quelli che sono i fabbisogni più prioritarie e noi per esempio come agenzia del demanio in questo senso interpretando la diciamo una serie di fabbisogni distribuiti di tutte le amministrazioni che utilizzano i beni demaniali abbiamo per esempio un fabbisogno importante di interventi di messa a norma, di adeguamento sismico, di sicurezza strutturale, di efficientamento energetico, di qualificazione ambientale anche di integrazione di tecnologie e abbiamo pensato che questa criticità diciamo potesse diventare un'enorme opportunità e quindi sotto questo profilo interpretando diciamo questo fabbisogno molto esteso e molto articolato e interpretando ripeto le esigenze delle più diverse amministrazioni abbiamo sottoposto l'iniziativa di un programma straordinario di riqualificazione degli immobili pubblici. Diciamo ci siamo mossi in questa direzione anche perché questo programma straordinario insieme ad altre iniziative può andare ad intercettare uno degli assi più importanti diciamo della programmazione europea che come sapete il Green New Deal. C'è un grande impegno di programmazione della Commissione europea in questa direzione e quindi questo potrebbe essere uno strumento, uno dei tanti strumenti di cui il Governo potrebbe disporre per fare in modo che vengano diciamo utilmente impiegate risorse di questo asse della programmazione europea a beneficio di fabbisogni veri, reali e che sono in grado appunto di generare economia reale. Questo è importante, sappiamo che il Governo può rappresentare un elenco di proposte molto concrete anche all'Unione europea per poi riuscire a farsi assegnare i fondi di cui si è avuto un accordo in questi giorni e c'è un'altra proposta che se non sbaglio è un piano operativo nazionale che mette al centro invece la tutela, la valorizzazione dei beni culturali, archeologici, ambientali del nostro Paese. Di cosa si tratta? Sì, ci tengo appunto a sottolineare con una diciamo qualche soddisfazione importante, iniziale che le nostre proposte hanno trovato un riconoscimento, un primo però importante riconoscimento nel programma nazionale di riforme che è stato recentemente approvato dal Governo e mandato alla Commissione europea, cioè il PNR 2021-2023 e poi sono state tra l'altro questi contenuti sono stati recepiti e impartiti sotto forma di atto di indirizzo da parte del Ministro dell'Economia delle Finanze che è molto attento e sensibile a questi temi e proprio ha emesso un atto di indirizzo nei confronti dell'Agenzia del Demanio che risale a pochi giorni fa al 13 luglio e quindi in questo senso ha approvato, diciamo, ha ricepito queste proposte. Una di queste è presente quella di fare sì che nell'ambito della programmazione, del ciclo di programmazione europea 21-27 che si sta, diciamo, imbastendo, che si sta definendo, possa essere contemplato e inserita una cosa che ci sembra di grande ragionevolezza e buonsenso, cioè la possibilità di un programma operativo nazionale che noi abbiamo chiamato così PON Bellezza, ma che è uno strumento, diciamo, di calibro significativo per poter promuovere e sostenere finanziariamente una serie di iniziative di valorizzazione dei beni pubblici nella loro più vasta, diciamo, classificazione che si prestano a delle iniziative di valorizzazione in chiave economica e o sociale e quindi potrebbero essere una grande opportunità a beneficio, ripeto, di tutte le classi di beni che noi consideriamo, per esempio i beni dell'ex demanio militare, i beni che fanno parte del patrimonio storico, artistico e culturale per iniziative straordinarie. Insomma, alcuni beni che si prestano anche ad essere associati a delle iniziative di tipo sportivo che hanno una valenza particolare sotto il profilo, diciamo, turistico, culturale. Ecco, quindi questo ci sembrerebbe una cosa molto importante e quindi i destinatari sarebbero poi i fruitori maggiori. Faccio un esempio, ci sono delle classi di beni o delle tipologie di beni che possono essere ricondotte all'interno, diciamo, del patrimonio storico che magari sono dei beni difficili da raggiungere da parte del governo, del pubblico, nel senso che sono destinati ad un abbandono oppure ad un rischio di rovina o di degrado, di decadenza, allora sarebbe possibile in questo caso intervenire per ripristinare e salvaguardare questa tipologia di beni di cui diciamo non dobbiamo insegnare noi quanto sia ricco il territorio nazionale di storia, di arte e di cultura. Anzi, abbiamo anche fatto una proposta in questo senso di cercare di semplificare il meccanismo istruttorio alla base del quale poter noi conferire delle concessioni di valorizzazione e soprattutto proprio l'altro giorno parlando con il Ministro Franceschini l'ho trovato molto sensibile a un'idea di tentare di legare il nostro strumento della concessione di valorizzazione con il meccanismo per esempio del mecenatismo, cioè il credito d'imposta riconosciuto ai cosiddetti mecenati, cioè coloro che investono per salvaguardare o tutelare diciamo il valore di un bene storico, di un bene culturale. Ecco, questo sarebbe una grande innovazione anche per la valorizzazione di questo patrimonio insieme anche al rilancio dell'economia del Paese. Ecco, lei che conosce così bene il patrimonio pubblico e tutto quello che è sotto, come dire, la vostra osservazione al demanio. Si è parlato in molte occasioni anche negli ultimi anni, lo ha fatto anche il nostro gruppo editoriale con diverse proposte, quando si trattava e si tratta ancora ovviamente in questo momento di tenere sotto controllo e di tagliare il debito pubblico, di operazioni che facevano leva sulla valorizzazione anche del patrimonio pubblico di un pezzo di patrimonio immobiliare. Ne abbiamo parlato con Ministri, ex Ministri dell'economia e da questo punto di vista io vorrei il suo parere tecnico su quanto vale quello che potrebbe essere valorizzato e se dal suo punto di vista è possibile immaginare delle soluzioni che costruiscono, da fondi, veicoli, che possono mettere alcuni pezzi del patrimonio immobiliare pubblico al centro per fare delle operazioni rivolte anche a tagliare il debito pubblico italiano. Io ripeto, per fatto personale, ma mi sembra in questo senso di interpretare anche, come posso dire, un pochino l'attitudine e il pensiero del Governo. Siamo molto più propensi a valorizzare i beni pubblici che non ad una semplice o più essenziale dismissione degli stessi. Certamente esistono delle indicazioni o delle misure che, per ragioni di obiettivi di finanza pubblica, prevedono la dismissione di un paniere di beni che sono stati già in anni precedenti individuati. Però, in questo senso, stiamo cercando di assecondare, di dare seguito a quei processi di dismissioni che si prestano a delle operazioni di riqualificazione e di rigenerazione urbana. Per esempio, proprio domani andiamo a Torino, presso la direzione regionale, presso l'ex manifattura tabacchi, perché tra i beni che erano previsti in fase di dismissioni c'è questo bene di grande pregio, di grande prestigio che è l'ex manifattura tabacchi, che si trova in un'area della città di Torino, dove a nostro parere rendere disponibile questo bene alla comunità economica, alla comunità istituzionale e soprattutto alla comunità di ricerca ed accademica, che è un'eccellenza della città di Torino, potrebbe prestarsi ed essere funzionale a delle straordinarie operazioni di valorizzazione e di riqualificazione diciamo di questa area importante del tessuto urbano e del tessuto socio-economico. Grazie di averci dato anche un esempio concreto anche di quello che sta succedendo e di quello che state facendo insieme a un aggiornamento complessivo sull'attività del demanio, la vostra strategia, Antonio Agostini, direttore dell'Agenzia del Demanio. Grazie ancora e buon lavoro, a presto. Grazie a lei, grazie a lei, buonasera a tutti.